Elvira è la più anziana ed anche la più agguerrita. In casa di Pietro e Sandra ormai abita da dieci mesi. Prima stavo a Firenze, 52 anni, e poi sono venuta qui perché avevo due figlie e allora mi volevano loro. Dopo ho trovato questo posto qui che sono felice e sto benissimo. È appena uscita da una brutta influenza ma ora sta meglio. Solo l'udito la tradisce ancora un po'. Nel suo passato un via vai all'ospedale. Sono stato qua all'ospedale, di qua di là, però non mi hanno mai abbandonato. Mai, 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 mai. Il suo migliore amico chi è? È il padrone. I padroni sono bravissimi. 101 anni di donna ma con un carattere da vendere. Ma chi è questa casa qua? Ma chi vuole aprire? Dove? Che? Ma che vogliono fare? Una vergogna? Ancora peggio? Dì che si ammazza a tutti.